E io chiedo a Dodo per finire questa trasmissione con lui, allora ho un ragazzo di oggi, un ragazzo varesino che vuole diventare giocatore di palacanestro, fondamentali, poi che cosa occorre a questo ragazzo? Ma sono due cose importanti e indispensabili oggi, l'allenatore tecnico che ti insegna di palacanestro, i fondamentali, poi dopo più o meno ci sono tante cose che non si possono più fare come facevo io una volta, perché dopo mezz'ora scappano, perché voglio dire esercizi che erano veramente noiosi, che oggi come oggi ci si può anche sbizzarrire, ci si deve sbizzarrire, proprio per dare a questi ragazzi non solo la parte tecnica riferita a questi gesti, ma anche aiutarli nella loro crescita con la creatività, perché ognuno di noi qualcosa ha, per cui sfruttare anche queste doti, credo che sia importante. La seconda parte invece, dividiamola in due, anche il condizionamento fisico-atletico, la crescita, che fino a una certa età si può fare, diciamo un termine tecnico, usando i carichi naturali, senza usare strumenti o andare in palestra e usare la panca, piuttosto che altre cose, pesi strani, che potrebbero anche rovinare magari la cresta, perché magari non siamo pronti per superare questi sforzi, ma non siamo, non sono pronti i ragazzi, però a carico naturale si può fare tutto e tanto, e questo è, perché poi va la mobilità, ma questo anche nelle scuole, per carità, non solo a palacanestro, noi diciamo, parliamo di palacanestro, però nelle scuole non si fanno queste cose. Sono parole interessanti, io ringrazio Dodo per questa riflessione. una piccola cosa, no? Che allora, a differenza di adesso, allora per dire fino agli anni anche 90, 1990, quegli anni lì, quasi tutti i giocatori, poi pian pianino si è perso questo, no? Avevano questo spirito di appartenenza alla società. Poi era d'accordo, per lo meno. Questo era innato in tutti, in tutti. C'era proprio questo spirito, che adesso c'è, viene a mancare. Adesso c'è solo lo spirito di appartenenza agonistico, ma alla mia squadra. Io parlo di società, che è una cosa diversa.